ciao a tutti ragazzi bentornati nel nostro canale youtube sono in compagnia di laura ciao video di oggi dedicato al secondo art book backgammon come si può vedere che questa volta a differenza di quella scorsa è dedicato solo a saiyuki infatti la volta scorsa c'erano anche altre opere dell'autrice minekura invece qui insomma come poi andremo a vedere tra poco tratta solo la sua opera principale ecco partiamo bene con un bellissimo sanso in copertina e sono felice perché è il mio preferito di saiyuki quindi sono contenta allora iniziamo appunto da lui tra l'altro ragazzi vi ricordo e se volete acquistare questo o altri articoli link in descrizione japan shopping service ecco anche questo come stile insomma l'altro che avevamo visto certo presenta i quattro protagonisti per poi passare alle illustrazioni di gruppo con anche vabbè anche gli altri personaggi devo dire che è proprio un bell'art book le illustrazioni si vedono molto bene anche bello grande comunque ma che bello e niente devo dire che sono molto soddisfatta dell'acquisto e di sicuro lo consiglio a tutte a tutti gli appassionati di saiyuki e appunto come diceva marco se volete procurarvelo vi consigliamo appunto di chiedere a noi col japan shopping service ad esempio perché questo non è arrivato in italia come anche quello che vi abbiamo mostrato in precedenza e sì perché gli art book spesso e volentieri tanti non arrivano magari anche per non lo so ora io ipotizzo poi se qualcuno ne sa di più a riguardo ci dica pure nei commenti però effettivamente per stampare diciamo in questa maniera o lo stampi per bene con una buona qualità o non lo stampi perché voglio dire per insomma i costi anche di stampa e tutto sono abbastanza elevati certo opera del genere poi magari non a tutti interessa magari in generale gli art book perché comunque alla fine ripropone solo le immagini insomma magari anche una cosa un pochino più solo per diciamo gli appassionati più stretti ecco un po' più di nicchia eh sì va che belli eh sì davvero sì sono veramente questa è la mia preferita di illustrazione dell'art book tante illustrazioni veramente tante sì e poi appunto ecco questa merita e cosa diceva appunto ha tante 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 belle illustrazioni e come ogni art book poi verso la fine c'è riepilogo di ogni appunto abbiamo visto anche nell'altro ah no forse c'era qualcosa appunto all'infuori però sì grosso modo è incentrato sul saluti sì 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 ecco sui amine cura works poi c'è l'immagine appunto di copertina e qui fa vedere vedete i bozzetti delle varie illustrazioni che abbiamo appena visto beh questo secondo volume tanta tanta roba davvero eh sì caspita poi come avevamo già detto nel video scorso ne esiste anche un terzo che vedremo se portarlo in futuro sul canale e un altro che si chiama appunto remix ecco qua come vi dicevo vi dice tutte le informazioni del caso qui da dove sono presi ok davvero molto bello qua abbiamo appunto delle note dell'autrice e concludiamo quindi così ecco qua e questo è appunto il retro di questo art book e che dire ragazzi direi che per questo video è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentato condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao